ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio finalmente ci ritroviamo e questa volta per discutere di un accessorio che mi sta particolarmente a cuore sto parlando della dashboard di performante da 7 pollici della epilab ragazzi prima di iniziare devo doveroso da parte mia salutare ringraziare edy perché è stato veramente molto disponibile con me è stato un professionista disponibile al mille per mille cioè l'ho contattato anche di domenica sera da sempre risposto presente quindi grazie edy veramente e in più vorrei ringraziare mirko de santis che ancora una volta mi ha suggerito di affidarmi a epilab sim racing ed è vazza veramente la pena voglio aprire un'altra parentesi che riguarda sempre molto la simulazione perché vorrei salutare e congratularmi con andrea zampini che ha vinto il campionato formula 3 sul portale sim racing gp grande andrea portando in alto i colori di sim drivers perché è il piloto ufficiale appunto della sd reparto corse e vorrei anche congratularmi con il team sim drivers perché sempre sullo stesso campionato ci siamo portati a casa il campionato a squadra quindi grande ragazzi e congratulazioni ad andrea di nuovo e a tutto il team chiusa la parentesi ragazzi torniamo a parlare di questa meraviglia la d performante da 7 pollici ragazzi anzi per la precisione 7 pollici 84 con una risoluzione da schermo da 1280 per 400 non è una una dashboard che si trova diciamo facilmente anzi esce fuori un po dalle righe ma è proprio questa peculiarità che la rende così eccezionale a parte la dimensione che è stratosfericamente enorme cioè mi sono inventato una parola ma se lo merita perché quel pazzo scatenato di eddy catanese doc si è inventato questo gioiellino che vi offre la possibilità di avere a portata di mano anzi a portata di occhio tutte quelle che sono informazioni che ogni pilota virtuale sogna di avere sotto mano in pratica sfruttando il programma che tutti ormai conoscete sim lab che ho già parlato ampiamente anche nel passato in questo stesso canale offre la possibilità di configurare qualsiasi tipo di arduino di qualsiasi tipo di schermo eccetera eccetera e quindi la possibilità di costruire queste dashboard fantastiche proprio eddy si inventa una dash proprio personalizzata di questo formato qui e che aggiorna praticamente ogni mese se non sbaglio infatti è a sua cura l'installazione proprio di sim labs simab fabri simab simab scusate ragazzi scusate ieri non ce la facevo simab e del profilo per questo tipo di accessorio quindi di cruscotto virtuale quello che colpisce a parte la dimensione stratosferica di questo accessorio è sicuramente la cura maniacale dei dettagli cioè stiamo parlando dell'alcantara sulla parte superiore che rende visivamente anche al tatto veramente qualcosa di piacevole e soprattutto vi lancia il vostro subito immaginario quello che è un cruscotto reale di una macchina da corsa lo schermo da 784 vi riempie gli occhi di tutte queste informazioni e in più ci sono 24 led fanno il giro praticamente sopra e sotto della della dashboard dandovi delle informazioni supplementari oltre agli rpm le bandiere il fatto che ci sia una macchina accanto a voi o meno l'attivazione del drs la possibilità di addirittura configurare se state migliorando o peggiorando il vostro tempo il delta in verde se migliorate in rosso se peggiorate ma potete anche configurare tutti i colori che volete potete configurare anche gli rpm al quale limite dovranno lampeggiare e qui stiamo parlando solo dei led cose che fanno tutti e però 24 su questa bestia rendono veramente benissimo inoltre questa dashboard è personalizzabile come vi pare cioè eddi o voi stessi sapete farlo potete configurare praticamente tutto quello che volete è ovvio che io mi sono affidato ad eddi perché ha creato appunto come dicevo una dash ad hoc per questo questo tipo di formato è ovvio che potete mettere tutte le dash che volete perché si vedranno però ovviamente la 21 noni allora ragazzi è doveroso fare una precisazione questo tizio qua sta dicendo una cagata 21 noni no è un formato wide ma il 1280 per 400 è un 16 quinti per essere precisi sarà il caldo ragazzi mi dà la testa nella speranza che non ho detto un'altra cagata in questa correzione della cagata che ho detto perché il calcolatore dice proprio 16 quinti fatto proprio apposta in questa qui che vi propone che vi propone epilab avete praticamente cinque schermate due che sono dedicate ai tempi una per la parte in cui siete ai pit stop e in più eddi ve la configura in modo tale che ogni volta che è entrata ai pit stop si mette in automatico questa qui che è il cruscotto classico con tutte le informazioni i tempi posizioni giri fatti delta attivazione del drs la mappa pressione delle gomme il consumo della benzina tutto quello che tutto quello che volete best lap lap last time il potenziale tutto quello che potete anche i pedali ci sono in questa dash infatti è stata ottimizzata per air racing ma funziona benissimo l'ho provato su r factor 2 l'ho provato su praticamente anche formula 1 2022 funziona benissimo e in più c'è anche una pagina in più dove si vede dall'alto una porsche in questo caso qua dove ci sono le temperature delle gomme la pressione e altri dati che adesso non mi ricordo e il bello è che insomma è configurabile questo switch di pagine tramite dei tasti e io ho scelto ad esempio sul mio volante v2 della fanatec un rotorino un pulsantino clac 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 si chiama encoder che il volante il formula 2.5 x perché praticamente andando avanti e indietro posso passare da una pagina un'altra sono le chicche veramente spettacolari che che unite ad una qualità top di gamma di questo tipo di prodotto insomma rendono l'esperienza della simulazione un qualcosa di veramente eccezionale ragazzi cioè chi è che non sogna di avere una bestia di dashboard così ragazzi che è fighissimo cosa aggiungere e cosa aggiungere che la configurazione e si fa da remoto la fa da remoto per quanto riguarda la dashboard è di e fisicamente insomma è qualcosa di molto facile sono tre cavi da collegare un hdmi da collegare alla vostra scheda video che farà riconoscere la dashboard come un quarto schermo e quindi poi bisognerà andare a selezionare lo schermo su cui andare a buttare la dashboard dopodiché ci sono due cavi usb per l'alimentazione uno dei led e l'altro del dello schermo appunto che compone il lo schermo lcd da 7 pollici 84 le dimensioni ragazzi solo per farvi capire le dimensioni solo per farvi capire sono 22,3 cm di larghezza alta 10 cm e mezzo per 3,5 cm di profondità una bella dashboard adesso la vedremo vi farò vedere un po come funziona ci sono quindi due porti usb per l'alimentazione come vi dicevo dei led e dello schermo e in più questo porta hdmi proprio per per collegarlo come se fosse un monitor inoltre hd vi dà un due adesivi una pochette per il trasporto vi dà anche il supporto in fibra di carbonio per fissarla su praticamente tutte le basi che sono in circolazione per la mia due punto e mezzo ci sta alla grande fanatec ma so che va per il dd1 dd2 per il sim cube che va anche per il sim magic e poi sono sicuro che hd sarà diciamo in grado di potervi fornire gli supporti per eventualmente basi diverse da quelle che vi ho nominato insomma ragazzi è un accessorio stratosferico vi invito ad andare a vedere epilapsimraising.com lo shop è straordinario la qualità è veramente presente ovvio che questo ha un tipo di costo ovviamente però lo shop vi offre anche una d pro da 5 pollici che è un po meno costosa però è un formato diverso di altissima qualità e tantissimi altri prodotti vi potrei dire il d flag il gtl pro insomma andate a vedere perché vale veramente la pena inoltre per chi fosse interessato potrei avere un codice sconto basta contattarmi privatamente non esitate e soprattutto non esitate a contattare di perché è veramente una persona in gamma come dicevo inizio video che vi saprà dare le informazioni giuste rispetto e le informazioni giuste rispetto a quelle che sono le vostre domande ed esigenze bene abbiamo fatto quello che si doveva fare la presentazione del prodotto adesso andiamo a vedere come funziona ok ragazzi allora siamo arrivati davanti alla dashboard e come vedete insomma l'alcantara i 24 led e come vedete questo rappresenta il quarto schermo del mio triple screen ovviamente come dicevo collegato con l'hdmi i due cavi per l'alimentazione dei led e del dello schermo da 7 pollici 84 allora come faccio io per attivare la dashboard molto semplicemente devo avviare qui sopra simab avvio simab che succede si avvia e vediamo succede che automaticamente mi propone la dashboard perché perché io ovviamente non è che voglio ogni volta impazzire quindi vado su dash studio su quella che quella ultima usata e comunque preferita come vedete con la stellina gialla in automatico gli ho chiesto di andarsi a posizionare qui ora qui si può veramente fare di tutto se siete bravi potete anche fare l'editing della dashboard e andare a cambiare tutti i parametri che volete ovviamente dovete avere un minimo di conoscenza di come funziona simab per andarvi a prendere tutti i dati che vi interessano d'accordo questa è quella predefinita che vi manda predefinita quella che è creata da epilab di eddi aggiornata come dicevo quasi ogni mese e qui ci sono tutte le pagine disponibili d'accordo quella che si mette in automatico ai pit e questa qua quindi eccola qua questa qua appena rientrate nei box sia con il tasto esco che con se ci andate fisicamente con la macchina cioè entrate voi manualmente con la macchina si mette in automatico invita praticamente qui le auto che vi stanno avanti che ci sono passate e queste quelle che stanno arrivando rispetto a qui che avete una mappa quindi vedete vedete visivamente le macchine che stanno arrivando e la loro distanza questo è molto utile per dire per gestire diciamo il traffico per andare a fare i giri veloci e fare le prove per non essere intracciati infatti si presenterà in questo modo qua d'accordo e poi ci sono e quindi io l'ho impostato così ragazzi non so se vedete se io giro qua adesso lo faccio vedere posso andare manualmente a modificare qui ci sono le posizioni il nome del pilota l'auto è l'ultimo giro che ha fatto il gap che c'è tra uno e l'altro e poi questa come dicevo è predefinita per air racing dice anche il air rating di ogni pilota poi questa è una schermata supplementare dove ci sono le marce i settori la temperatura del dell'asfalto dell'acqua l'olio eccetera e poi quella più figa ovviamente questa qua dove ci sono tutte le informazioni che poi ritroviamo qua nell'editor tutte le informazioni e tutto questo ragazzi è personalizzabile se io volessi aggiungere una pagina supplementare potrei farla con che ne so la foto dei miei familiari con scritto ricorda di di noi tipo una roba del genere giusto per scherzare ragazzi però si può fare una roba del genere personalizzando completamente la schermata questa dashboard ovviamente è compatibile anche con le dashboard che adesso non la carico perché non mi va di però è compatibile anche con le dashboard sono standard che vi danno che vi da simab o che potete caricarne altre però ovviamente è bene sfruttare proprio questa wide per questi 22 centimetri e passa di larghezza su 10 di altezza quindi ragazzi questa era la descrizione fisica e le connessioni che sono veramente facilissime vedete che figata con questo che rende figo il diciamo la gestione dei cavi e poi non so se si riesce a vedere non credo come fissata qua sotto con il supporto in fibra creata ad hoc da epilab bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che la mia recensione le mie opinioni rispetto a questo accessorio dashboard di performante da 7 pollici vi sia piaciuto se il caso distruggete il tasto pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un commento qui sotto noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao